Sante d'Alberto è stato eletto nella lista 360 proposte per Cupello con 200 voti di preferenza, quindi un successo personale in dubbio, oggettivo, che praticamente lo proietta in impegni amministrativi all'interno della futura compagine e vogliamo con lui direttamente commentare questo risultato. Ma è un ottimo risultato, oltre che personale, anche dell'intera lista 360 che abbiamo vinto per una differenza abbastanza ampia sul centro-destra per Cupello e sull'altra lista outsider Cupello cambia, un risultato che era nell'aria ma probabilmente inaspettato sotto il punto di vista numerico. Per quanto riguarda il discorso personale ho una grande gratificazione, poi quello che succederà nei giorni a venire, le decisioni che prenderà il sindaco per quanto riguarda il mio destino personale all'interno della compagine amministrativa. Resterò agli ordini, soprattutto perché l'impegno che ci siamo presi reciprocamente è quello di impegnarsi per il proprio paese nei prossimi cinque anni e non abbiamo fatto nessun tipo di accordo a livello di cariche o di spartizione. Siamo un gruppo coeso, compatto che puntano a raggiungere il meglio per il proprio paese e a rispettare i programmi e gli impegni presi con la gente. Un impegno particolare che già ti sei assunto ma che comunque vuoi confermare per la contrada che ti ha così sostenuto, cioè Montalfano, della cui squadra di calcio sei anche presidente? Credo che gli ultimi time abbiamo avuto un episodio abbastanza drammatico con il terremoto del 6 aprile 2009, c'è stata la chiusura della chiesa in quanto il genio civile ha ritenuto che quella struttura andava chiusa in quanto non più in sicurezza. Quindi credo che sia un primo impegno che dobbiamo noi amministratori sollecitare alla ristrutturazione o ricostruzione insieme a tutti gli abitanti. Poi tenere conto che ognuno di noi è amministratore non di una parte del territorio ma dell'intera comunità. E' l'impegno fondamentale che dobbiamo attuare e dobbiamo avere nei confronti delle persone più deboli e soprattutto nel rispetto di quelle persone che in questi giorni stanno vivendo una grossa crisi a livello occupazionale.